Guardare ad un futuro vicino più di quanto non si creda e correre verso gli orizzonti che ci regala la quarta rivoluzione industriale, quella legata alla rete e dalla tecnologia. In questa direzione da otto anni l'Internet Festival di Pisa, evento diffuso promosso da Regione Toscana, Comune, Provincia e tanti altri partner dal CNR fino agli Atenei Pisani. Un lavoro di rete dunque per sostenere la diffusione della cultura digitale, per discutere e confrontarsi sui cambiamenti epocali che sta vivendo la nostra società. Quest'anno il festival, che apre i battenti l'11 ottobre per chiudere domenica 14, si concentrerà in particolar modo sul tema dell'intelligenza artificiale, declinata in molti aspetti e sfaccettature. L'intelligenza applicata all'arte, l'intelligenza applicata al cibo, applicata alla moda, applicata a tutta una quantità di argomenti. Quindi avremo moltissimi interventi, moltissime discussioni, dibattiti, moltissime presentazioni. Una fra tante ci sarà la presentazione del nuovo libro di Alessandro Baricco, che parla di Silicon Valley e parla di come la cultura digitale sta cambiando la vita di ciascuno di noi. Pisa non è soltanto la torre di Pisa, ma è tanto altro, sia da un punto di vista di patrimonio artistico, ma anche, come in questo caso, da un punto di vista didattico-culturale che non è indifferente. A Pisa è nato il primo segnale internet, quindi voglio dire come era nato il primo segnale fatto da Marconi nelle sue operazioni negli anni che furono. Per cui il legame è fortissimo e noi vogliamo che anche la parte didattica universitaria non sia fine a se stessa, ma possa anche produrre un reddito per il nostro territorio. Ad Internet Festival tornerà poi sul piatto anche il tema della cyber security e ancora focus sulle imprese in digitale e sugli scenari di competitività per chi investe nelle nuove tecnologie. Non mancherà poi lo spazio ludico con i game box e neppure i libri, con oltre al già citato baricco anche l'Isamaino, star di YouTube con 3 milioni di follower a soli 15 anni. La giovanissima star della rete presenterà a Pisa il suo libro ad esordio. E poi ci sarà la pubblica amministrazione digitale. Il tema dunque è quello della Smart PA portato avanti con impegno anche dalla regione. Proprio Internet Festival chiuderà infatti il tour di partecipazione e confronto aperto con i territori di Toscana Digitale. Quest'anno includeremo proprio a Internet Festival il nostro iter di costruzione partecipata della nostra agenda digitale e presenteremo il centro della cyber security che insieme a tutte le università toscane abbiamo recentemente implementato come strumento forse unico in Italia in un settore dell'innovazione molto legato sia alla pubblica amministrazione che all'industria 4.0 su cui bisogna avere sempre più attenzione. Ed a proposito di pubblica amministrazione digitale, l'attualità, quella legata al tragico incendio che ha colpito i Monti Pisani, è stata l'occasione anche per ribadire l'importanza della comunicazione social in emergenza e non solo. Internet è importantissimo sia per poter relazionarsi con i nostri cittadini anche in quelle che sono le attività ordinarie dell'ente locale ma anche di fronte a tragedie come quella dei giorni scorsi avvenuta nel nostro territorio sicuramente può essere di grande aiuto per tutta una serie di cose appunto anche i tecnici ci spiegavano che appunto ci sono telecamere piuttosto che sistemi di app che in qualche modo controllano il territorio quindi sono cose fondamentali. Grazie